Avevano rubato tutte le maglie da gioco del Montevarchi la notte prima della trasferta, ma sono stati scoperti e denunciati dalla polizia di Stato. Ad accorgersi del furto lo staff della società sportiva, che il giorno prima aveva già preparato ed imbustato il materiale tecnico in vista della partita. Ma la domenica mattina mancava tutto, sette di maglie, calzoncini, calzettoni e giubbotti tecnici dei calciatori, nonché la fascia di capitano ed il gaiardetto ufficiale della società. La dirigenza Rosso Blu ha quindi sporto denuncia al commissariato di Montevarchi e la squadra scesa in campo con le maglie e calzettoni di riserva. I poliziotti hanno subito dato avvio alla indagine e ricostruito la dinamica del furto. I ladri si sarebbero introdotti nell'impianto sportivo, facendo la zia delle divise da gioco ed arresto già stipato nel furgone della società il sabato sera, per poi darsi alla fuga. La procura ha anche disposto la perquisizione a carico del maggior indiziato e sono così saltate fuori la maggior parte delle maglie. Altro materiale è stato invece ritrovato poco dopo nelle disponibilità di un'altra persona, indagata anche lei per furto. La refurtiva infine è stata restituita alla società Rosso Blu.